Buonasera e bentrovati con l'informazione di Udinese TV in questo nostro ultimo appuntamento di giornata. Come sapete noi abbiamo introdotto divieti di circolazione per quanto riguarda, limiti alla circolazione per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni e poi per ottenere un effetto contenitivo e quindi limitativo della circolazione, degli spostamenti, soprattutto in questi tre giorni che ho menzionato, anzi in questi tre giorni abbiamo introdotto anche il divieto di spostarsi o comunque dei limiti per quanto riguarda gli spostamenti tra comuni. Questo crea un problema oggettivo perché è chiaro che chi è in un grande comune, in una media città, grande città e anche se mai è la fortuna di avere dei parenti, nonostante le raccomandazioni, attenzione perché noi abbiamo comunque sul tavolo una forte raccomandazione di non creare occasioni di convivialità con persone che abitualmente non convivono nella stessa abitazione, però è chiaro che chi ha quantomeno i congiunti prossimi, i parenti più stretti ha la possibilità di muoversi e di poter pranzare insieme. Gli altri invece che se mai sono in paesini più piccoli e sono a poca distanza possono avere delle difficoltà. Noi stessi, questo lo vorrei dire a tutti gli italiani, noi non siamo contenti di introdurre misure. Dobbiamo operare, dobbiamo mantenere queste restrizioni. Se poi il Parlamento però, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre qualche eccezione per i comuni più piccoli che possa avere comunque una logica di mantenimento, consentire una circolazione in un raggio ovviamente chilometrico contenuto per i comuni più piccoli. Io personalmente l'ho detto, si è aperto una riflessione anche intorno al Governo, ci confronteremo anche con gli altri capi di delegazione del Governo, ritorneremo su questo punto. Ovviamente il Parlamento è sovrano perché noi abbiamo mandato in Parlamento un decreto legge, abbiamo cercato di mandarlo un po' in anticipo rispetto alle prossime festività. Certo, non c'è molto tempo, il Parlamento in ogni caso è sovrano. Quello che posso dire è, qualsiasi anche misura che possa costituire un'eccezione rispetto al piano predisposto, mi raccomando con grande cautela e attenzione. E allora andiamo a vedere qual è la situazione in Italia, secondo i dati diramati dal Ministero della Salute. Quest'oggi sono 18.727 i positivi al test per il coronavirus in Italia, le vittime sono 761. In totale i casi sono arrivati a quota 1.805.873 e le vittime sono a 63.387. I tamponi effettuati sono 190.416, quasi 20.000 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 9.8%, stabile rispetto a ieri. 3.265 sono i pazienti in terapia intensiva con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 26 unità nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 208. E secondo quanto emerge dal report dell'Istituto Superiore di Sanità e appunto dal Ministero della Salute con il monitoraggio settimanale, sono 5 le regioni con una classificazione complessiva del rischio alta. Parliamo dell'Emilia Romagna, della provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna e Veneto. Due delle 5 regioni, ovvero Puglia e Sardegna, sono state classificate a rischio alto e o equiparate a rischio alto per tre o più settimane consecutive. E nel frattempo al Via, la gara per il reclutamento di 3.000 medici e 12.000 infermieri per la precisione da utilizzare a tempo determinato per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha emanato quest'oggi l'avviso pubblico e dal 16 dicembre sarà possibile inviare la propria candidatura, mentre la scadenza della gara è fissata per il 28 dicembre. L'assunzione sarà per un massimo di nove mesi rinnovabili in caso di necessità. Conferenza stampa, quest'oggi del Premier Conte, dopo l'accordo sul recovery, un'intesa rileva senza rinunciare ai nostri principi. Avanti solo con la fiducia di tutta la maggioranza. È un Consiglio europeo che si può definire storico e un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse del recovery fund, ha dichiarato il Premier. Sulle ratifiche nazionali del recovery, il clima è molto buono anche dai paesi che sono stati più diffidenti. Non c'è stato nessun segnale di nervosismo e non ci aspettiamo un cammino irto. Ragionevolmente sarà difficile che potremo partire prima di febbraio. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci confronteremo con le singole forze politiche e poi collettivamente. Ed ora passiamo al caso Regeni. È stato confermato lo stop delle relazioni tra la Camera e il Parlamento in Egitto. Sentiamo. Ci sarà un processo in Italia per il brutale omicidio di Giulio Regeni, seviziato per giorni con oggetti roventi, calci, pugni, lame e bastoni e poi ucciso. La Procura di Roma ha chiuso gli accertamenti e notificato, con rito degli irreperibili, vista la totale mancanza di risposta da parte dell'Egitto sull'elezione di domicilio, la conclusione delle indagini nei confronti di quattro appartenenti ai servizi segreti del Cairo, a cui vengono contestati, a seconda delle posizioni, i reati di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. Abbiamo acquisito elementi di prova univoci e significativi, ha detto il procuratore Prestipino davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta. Abbiamo fatto di tutto per accertare ogni responsabilità. Lo dovevamo a Giulio e all'essere magistrati di questa Repubblica. Per i genitori del ricercatore, Paola e Claudio, è una tappa importante per la democrazia italiana e per l'Egitto. Niente ci ferma, hanno detto. La nostra lotta di famiglia è diventata una lotta di civiltà per i diritti umani, che è come se agisse Giulio. Quindi la richiesta di richiamare l'ambasciatore italiano e le critiche al governo. Sotto processo rischiano di finire il generale Tariq Sabir, Tarkam El Mohamed Ibrahim, Usam Elmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Soltanto quest'ultimo, oltre al sequestro di persona pluriaggravato contestato a tutti, è accusato di lesioni personali aggravate e l'omicidio del ricercatore friulano. Ed ora con questo servizio entriamo in regione, ma le principali notizie le vediamo con i nostri titoli. Non ci saranno cambi di colore per la nostra regione che rimane gialla. I nuovi contagi sono 843, 23 i decessi. Oggi pubblicato il bando per selezionare 3.000 medici e 12.000 infermieri per la somministrazione dei vaccini. La regione ha acquistato 8 maxi frigoriferi speciali. Continuano feste, bevute proibite. Questa volta Pordenone è chiuso un bar per 25 giorni dopo che un sedicenne è finito in coma etilico. Il prefetto Valenti avverte, durante le feste i controlli saranno severi. Era ubriaco e dopo aver malmenato i tre figli, ha lanciato il cane dalla finestra del terzo piano, condannandolo alla morte. Denunciato un 38enne di fletto Umberto, la moglie e i ragazzi portati al sicuro. Per domani mattina la protezione civile ha diffuso un'allerta gialla in regione per piogge abbondanti. Si teme l'acqua alta lungo la costa durante il picco di marea. Gotti tornerà in panchina. Il tecnico ha analizzato il match di domani alle 18 contro il Torino. Ed è un opeo probabile dall'inizio. Il frio di Venezia Giulia dunque resta in zona gialla. I contagi rimangono stabili ma ci sono altre 23 vittime, 15 in provincia di Udine. Blackout delle linee telefoniche al Dipartimento di Udine. Prosegue nel frattempo l'organizzazione della campagna di vaccinazione anti-covid. Davide Zanirato. Nel giorno in cui è arrivata la riconferma della zona gialla, grazie ad un indice R-T che seppur in rialzo rimane sotto l'1 a 0,97, resiste sotto il 10% la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia. 843 nuovi contagi a fronte di 8.432 test. Continua però a mantenersi stabile il trend di letalità con altre 23 vittime, di cui 15 nella provincia di Udine. E tra loro anche Don Erminio Cossaro, 76 anni, la settima vittima del covid nella Casa della Fraternità Sociale di Via Ellero a Udine. Prosegue pure la sofferenza dei reparti ospedalieri con le terapie intensive che risalgono a 63, mentre scendono di 8 unità i ricoveri negli altri reparti, 644 complessivamente. Gli attualmente positivi sono 14.755, mentre tornano ad aumentare le persone in isolamento, 13.528. Le guarigioni invece raggiungono quota 22.690 con un balzo positivo di 777 unità. Sul fronte sanitario l'azienda Friuli Centrale ha comunicato che in mattinata si è verificato un'interruzione delle linee telefoniche del Dipartimento di Prevenzione nella sede di Via Chiusa Forte. A causa di un problema tecnico ci si è immediatamente attivati per risolverlo. Con il gestore telefonico e dal direttore Braganti sono arrivate le scuse per il disservizio. Il Vice Governatore Riccardo Riccardi invece ha aggiornato ulteriormente sulle modalità organizzative in vista delle vaccinazioni anti-Covid di gennaio. Abbiamo provveduto all'acquisto di 8 frigoriferi speciali, in tutto una spesa di 95.000 euro per garantire la conservazione del vaccino. E stiamo procedendo, aggiunto, in stretto contatto con la struttura commissariale per l'individuazione dei siti di somministrazione. Che lo ricordo, dice Riccardi, dovranno rispondere a dei precisi requisiti tecnici e organizzativi. Dopo aver scelto quali siti di stoccaggio alle farmacie ospedaliere di Trieste, Udine, Pordenone, Monfalcone e Tolmezzo, il prossimo passaggio che vede protagonista la Regione è quello dell'individuazione delle sedi di somministrazione e il loro allestimento. Che per Udine e Pordenone vedrà protagonisti probabilmente i quartieri feristici, per Gorizia è la sede della ginnastica goriziana e a Trieste il centro congressi del Porto Vecchio. Oltre a ciò, l'amministrazione affiancherà parallelamente la struttura commissariale anche nel reclutamento del personale. Da una parte c'è il bando su scala nazionale per 15.000 posti tra medici e infermieri. Dall'altro c'è l'azienda regionale di coordinamento alla salute che cerca sul territorio di coinvolgere i professionisti arruolabili registrando la disponibilità delle scuole di specializzazione e degli operatori sanitari in pensione. Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla. La mia preoccupazione però non è questa, ma contenere il più possibile la diffusione del virus. Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. A livello dei dati sul coronavirus delle ultime due settimane ha osservato Stiamo assistendo purtroppo come tutto il nord-est a un aumento importante di decessi che ci preoccupa ed è un dato collegato ai contagi delle settimane pregresse. Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha parlato anche del tema legato ai vaccini. Quello che poteva fare la regione per aumentare i quantitativi di vaccini anti-influenzali lo ha fatto. Abbiamo ampliato la platea di beneficiari che sono ovviamente le fasce più deboli. Su questo noi abbiamo calcolato il 75% di copertura rispetto al 25% degli scorsi anni. Senza dubbio ci saranno però anche ripercussioni per le aziende che producono vaccini perché non stanno rispettando i contratti. Questo in relazione al fatto che i contratti prevedano che si possa chiedere un aumento del 20% della fornitura. Capisco la situazione di difficoltà globale, ha concluso, ma credo che i contratti vadano rispettati. E le famiglie e i cittadini della regione hanno bisogno di una sanità più tempestiva in questa emergenza e la regione faccia la sua parte. E' l'appello del segretario del PD Cristiano Schaurli. Sentiamo. Questi giorni è iniziato il dibattito della finanziaria regionale ed è iniziata una prima discussione, seppur tardiva, sui fondi del recovery fund e sulle esigenze e le priorità di questa regione. Ciò che appare, anzi preoccupa, è la scomparsa invece di quello che dovrebbe essere assolutamente centrale in ogni nostra azione politica, in ogni nostro intervento e riflessione ed è la sanità e la salute dei cittadini. E' innegabile, l'hanno riconosciuto tutti dopo mesi di narrazione da primi della classe, che ad oggi siamo, per i numeri e per i dati, la peggior regione d'Italia. Sia come numero di casi positivi su 100.000 abitanti, sia purtroppo come numero di decessi e sia anche per una difficoltà di tracciamento che ancora persiste e che le famiglie provano ogni giorno. Preoccupa quindi che si discuta poco, troppo poco, di sanità, delle misure da mettere in campo, delle esigenze, soprattutto sui territori che le nostre famiglie ogni giorno segnalano e ancora richiedono. Ci aspettiamo un netto cambio di marcia, ci aspettiamo il riconoscimento degli errori e dei ritardi di questi mesi, della sottovalutazione di quest'estate, ma ci aspettiamo soprattutto, sia in finanziaria, sia in qualsiasi misura economica, la centralità delle risposte sanitarie a cittadini, famiglie e anche ad operatori del settore sempre più provati e che non hanno avuto le risposte che si attendevano. Non è più il tempo di definirli solo eroi, è il tempo di dargli il personale, la strumentazione e le possibilità di dare le risposte che vogliono e sono in grado di dare ai cittadini della nostra regione. Quindi lo chiediamo davvero in maniera molto forte, riportiamo al centro del dibattito e dell'attività politica il tema della sanità, della salute e delle esigenze delle persone. In arrivo la mano pesante delle forze dell'ordine per le festività natalizie, controlli serrati e sospensioni di licenze rigorose per il mancato rispetto del DPCM natale. A Pordenone un mese di stop a un bar che aveva ospitato i festeggiamenti a Gintonic per il ritorno in zona gialla. Questa mattina la squadra volante della questura di Pordenone ha eseguito un provvedimento di sospensione per 25 giorni disposto dal questore Marco Dorisio nei confronti del bar alla posta di Piazza 20 Settembre. La misura è scattata a seguito di un episodio verificatosi nel tardo pomeriggio di domenica. Verso le 19 nella centralissima via Mazzini un ragazzo di 16 anni era stramazzato a terra perdendo i sensi. Un suo amico, anche lui 16enne, ha chiesto aiuto ai passanti. In zona c'era una dottoressa che ha soccorso il ragazzino riscontrando poi come avesse perso i sensi in seguito ad un coma etilico. Sul posto è arrivata l'ambulanza che ha prestato le prime cure trasportando il giovane in pronto soccorso. Dalle successive indagini della polizia è emerso che 5 coetanei per festeggiare il passaggio della regione alla zona gialla si erano dati appuntamento in città. E' sempre domenica, primo giorno di zona gialla, a Pordenone si è verificato un altro episodio. Verso luna di notte sono arrivate segnalazioni rispetto a musica e schiamazzi da un appartamento del centro. Gli agenti si sono trovati di fronte poi una vera e propria festa con 9 sedicenni intenti a consumare superalcolici e con i sacchi a pelo al seguito, così da essere pronti per il mattino a recarsi nei vari bar del centro a festeggiare la fine delle limitazioni. Proprio oggi, tra l'altro in vista delle festività natalizie, è arrivato l'avviso del prefetto di Trieste, Valerio Valenti, a margine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Continueranno a essere monitorati i locali pubblici per verificare il rispetto delle misure anti-Covid previste nel ultimo DPCM. Ho dato indicazione al questore di applicare con la massima severità le sanzioni previste affinché i 5 giorni canonici di sospensione dell'attività siano sempre inflitti qualora si dovessero verificare delle violazioni da parte dei titolari dei bar e ristoranti. In questo periodo, assicurato Valenti, implementeremo inoltre i controlli sulle frontiere, ma non con postazioni fisse. Infine, saranno potenziate verifiche a random, anche nei centri commerciali, per effettuare qualche controllo in più. In generale, a concluso Valenti, ci sarà anche una grande attenzione al controllo degli obiettivi sensibili, che sono tantissimi, a cominciare a Trieste dai consolati e dalla sinagoga, il cui presidio ultimamente dovrà essere ulteriormente rafforzato. Un brutto episodio di violenza si è verificato a Udine. Un uomo ubriaco ha picchiato i figli e ha ucciso il cane di famiglia lanciandolo dal terzo piano. Un 38enne di feletto è stato denunciato dai carabinieri. I militari sono intervenuti sul posto e hanno messo in sicurezza la moglie e i tre figli dell'uomo. Prima ha alzato le mani su due dei tre figli minorenni, poi ha lanciato il cane di famiglia, un meticcio di piccola taglia, dal terzo piano, causandone la morte. Tutto questo in preda ai fumi dell'alcol al termine dell'ennesimo litigio con la moglie convivente. Per questa ragione un 38enne di feletto Umberto in comune di Tavagnacqua è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e uccisione di animali. Sul posto a casa della coppia sono intervenuti i carabinieri della stazione di Udine Est e quelli della norma del capoluogo friulano, mettendo moglie e figli dell'uomo in sicurezza e riportando la situazione alla calma. La donna e i bambini sono stati prima portati al Santa Maria della Misericordia, dove sono stati trattenuti per accertamenti e poi messi in contatto con un centro antiviolenza della provincia senza fare il ritorno a casa. I fatti si sono verificati martedì scorso, l'uomo è stato denunciato oggi dai militari dell'arma. Una nuova imbarcazione per i vigili del fuoco di Gorizia, positivo il collaudo effettuato quest'oggi a Monfalcone. La commissione tecnica di collaudo, presieduta dal comandante provinciale, l'ingegnere Granata, ha infatti constatato la piena efficienza dell'unità nautica che andrà a implementare le risorse strumentali destinate a contrastare il cosiddetto rischio acquatico nelle acque, sia interne che marittime, nell'ambito della provincia di Gorizia. L'imbarcazione, come vedete dalle immagini, capace di ospettare sei persone, è motorizzata con un motore fuori bordo di ultima generazione, estremamente performante, ha delle emissioni molto contenute. Stante il pescaggio estremamente ridotto, grazie anche allo scafo in vetro resina, opportunamente sagomato, l'unità risulta molto efficace negli interventi di soccorso nell'ambito della laguna di Grado, dove spesso i vigili del fuoco si trovano ad operare anche in condizioni di bassa marea. L'acquisizione di questa ulteriore unità nautica permette di implementare a livello regionale la capacità di risposta che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da sempre garantisce anche in ambito acquatico. E ora ancora a cronaca con una rissa avvenuta a Udine in Borgostazione dei Ladri, in azione a bordo di una ruspa, episodi di droga e sequestri di cuccioli. Nelle nostre Flash News. Nella tabla serata di ieri, ennesima rissa in Borgostazione a Udine a far scattare l'allarme, forte rumore proveniente da Viale Europa Unita. Nel posteggio delle bici vicino alla stazione dei Tredi. In quel momento era in atto un servizio di vigilanza privata del Corpo Vigili Notturni, il quale ha assistito allo scontro che ha visto coinvolti quattro cittadini stranieri di origine afghane e pakistane. I quattro si stavano picchiando, dandosi calci ai pugni e lanciandosi bottiglie addosso, alcune delle quali scagliate pure in mezzo alla strada, tanto che diversi automobilisti in transito hanno dovuto fermarsi per non essere colpiti. Gli agenti, insieme alle guardie giurate, hanno sedato la rissa tra i cittadini stranieri, peraltro già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati e portati in questura. Il quarto si è dato alla fuga. Nella notte, dopo l'una, è scattato l'allarme relativo alla stazione di servizio Kuwait di via Spilimbergo a Martignacco. Sul posto si è precipitata una vettura del Corpo Vigili Notturni, riscontrando la presenza di una pala meccanica ancora accesa e due colonine del self-service a terra. Sul posto presenta anche un agente della Polfer, in Borghese, fuori servizio e successivamente i carabinieri per i rilievi del caso. Dalle verifiche è emerso che i malviventi si sono impossessati del denaro contenuto all'interno delle colonine. Il danno non è stato ancora quantificato. La stazione di servizio era già stata colpita nel luglio scorso e prima ancora nel novembre 2019, sempre con le stesse modalità. Nuovo sequestro di cuccioli di contrabbando da parte della Polstrada di Palmanova. Gli agenti hanno bloccato un'autovettura con targa polacca all'interno dell'area di servizio di Gonars. A bordo del mezzo un cittadino ucraino di 22 anni e un bielorusso di 19. Ispezionato il veicolo sono stati rinvenuti all'interno 8 trasportini contenenti complessivamente 14 cuccioli di cane, 5 barboncini nani, un bulldog francese e 8 pomerani a spiz. Le condizioni sanitarie risultavano precari e i cuccioli apparivano in stato di ipotermia. Sono stati quindi sequestrati e affidati alle cure di un allevamento locale. Il conducente e il passeggero sono stati denunciati per importazione illecita di animali, uso di atto falso e maltrattamenti. Un neomaggiorenne senza fissa dimora è stato denunciato dalla polizia locale di Trieste per aver ceduto marijuana ad una minorenne che dopo aver l'assunta è stato colpito da un malore. Il ragazzo si è sentito male mentre stava giocando assieme ad alcuni coetane in un giardino pubblico della città. È stato soccorso dal personale sanitario e portato al burlo garofolo. Una volta accertato che le caude del malore erano riconducibili alla probabile assunzione di sostanza stupefacente sono scattate le indagini per identificare il responsabile. Il porto di Monfalcone saluta il segretario dell'autorità Sommariva che lascia il posto al confermato Zeno D'Agostino facendo il punto sul percorso di sviluppo dell'area dei cantieri. La mattinata questa è dedicata al porto di Monfalcone con il dottor Sommariva alla quasi vigilia della sua partenza per il nuovo incarico alla Spezia. A che punto siamo col porto di Monfalcone? Sono stati raggiunti importanti risultati? Intanto faccio i miei complimenti e ringrazio il dottor Sommariva per quello che quest'anno è riuscito a fare, a quello che siamo riusciti a fare insieme. Per noi è stato un punto di riferimento essenziale. Quindi grazie perché abbiamo fatto dei passaggi importanti, un porto di Monfalcone che riteniamo abbia delle potenzialità non da poco e le azioni svolte, anche quella che oggi lui ha raccontato alle rappresentanze sindacali e poi alla conferenza capigruppo che abbiamo incontrato, sono passaggi essenziali. Per la prima volta, dal primo di gennaio, i terminalisti, potremmo chiamarli così, avranno la possibilità di avere una data d'inizio, una data di arrivo, 12 anni, e l'organizzazione anche della portualità sarà definita con l'opportunità di avere degli investimenti, di avere degli investimenti infrastrutturali ma anche e soprattutto di personale. Durante quest'anno anche altri passaggi sono stati fatti e io ringrazio anche la Regione perché in questa sinergia, grazie anche all'intesa raggiunta, i passaggi hanno consentito di guardare a domani con una certa positività. È logico che c'è ancora molto da fare e il servizio ferroviario ritengo sia il primo appuntamento veramente importante da affrontare e poi insomma tutte le operazioni successive. Però oggi è fondamentale quanto il domani, quindi io ritengo che per i lavoratori che ogni giorno devono lavorare e portare a casa il loro pane per la famiglia, questa situazione che deve andare verso il miglioramento e la riduzione anche delle tensioni di questi ultimi periodi sia una partita la più urgente, ecco diciamo la più urgente e la più importante. Continua l'ondata di maltempo tanto che la protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di colore giallo per domani mattina quando potranno verificarsi fenomeni di acqua alta lungo la costa in corrispondenza del picco di marea. Sulla Regione, ha spiegato la protezione civile, negli strati medio-bassi dell'atmosfera ristagneranno ancora masse di aria umida e domani passerà un debole fronte atlantico. Seppure con bassa probabilità saranno possibili deboli precipitazioni sparse e nevose oltre 800 metri circa, possibile acqua alta sulla costa al mattino e locali foschie nelle ore notturne. Dal pomeriggio sera riprenderà invece a soffiare bora moderata sulla costa e sulle zone orientali. Passiamo ora allo sport. Si è concluso l'anticipo dell'undicesima giornata che si è disputata questa sera tra Sassuolo e Benevento. Anticipo, chiedo scusa, che vede la vittoria del Sassuolo per 1-0 in rete Berardi. E ora passiamo ai colori bianconeri. Gotti ha spiegato come anche a distanza si è riuscito a seguire la squadra nel periodo della sua assenza e ha sottolineato come il poter disporre dell'organico quasi al completo possa essere un fattore positivo a partire dalla gara di domani. Non esclude poi l'impiego di Delofeo dal primo minuto o a gara in corsa. Mister, innanzitutto bentornato. Parto subito da questo, dalle sue sensazioni, da quanto le è mancato il lavoro sul campo, il contatto con la squadra in settimane e anche su come è stato impostare a distanza il lavoro del gruppo. Vede, oggi la tecnologia ci permette cose che in passato erano quasi impensabili. Io da casa vedevo tutti gli allenamenti in diretta, riuscivo a gestire da casa le riunioni video e anche qualche colloquio individuale con i calciatori. Insomma, è chiaro che però il campo ti dà realmente il polso della situazione. Ti dà, come direbbero i vecchi allenatori, l'occhiometro è importante per la valutazione raffinata delle cose che succedono. Si riparte subito con una partita tosta. È corretto definirla una trappola, visto che c'è un Torino in situazioni delicate di classifica, anche di ambiente, e l'Udinese dal canto proprio viene da uno stop forzato, visto il rinvio con l'Atalanta? Ogni partita di Serie A è una trappola e ogni partita di Serie A è un'opportunità. Quello che mi dispiace è che non abbiano giocato domenica. Domenica, nonostante le assenze, mi è dispiaciuto non giocare perché avvertivo nella settimana vista fare i ragazzi, avvertivo delle ottime sensazioni. A proposito di assenze, la Rosa viaggia verso la completezza dell'organico, diciamo così. Può essere questo un fattore positivo, magari anche più a lunga scadenza a partire dalle prossime gare ed in parte da quella di domani? Io spero che lo sarà. Stiamo recuperando qualche giocatore che si avvicina al gruppo e comincia ad allenarsi con il gruppo, con una certa continuità, però anche domani avremo una serie di defezioni. Detto che la vera differenza non è avere i giocatori a disposizione, è avere i giocatori nelle migliori condizioni a disposizione su questa cosa qui, per alcuni ci sarà da aspettare ancora un po'. A Roma una delle chiavi, sorpresa, è stato l'attacco leggero Pussetto-Forestieri che ha messo in crisi la Lazio. Purtroppo Forestieri non c'è. Le chiedo se un assetto simile può essere replicabile domani con la presenza ad esempio di Olofeu? Può essere replicabile, può essere una soluzione sia dall'inizio della partita e sia partita in corso. L'ultima, le insidie della partita e del Torino, visto che nelle ultime settimane la squadra di Giappolo ha cambiato, ha giocato verso tattica, ha giocato con un 3-5-2, adesso pare possa tornare al modulo col trequartista. Che avversario che partita si aspetta? Ritengo il Torino una squadra simile a noi per certi versi, abbiamo alcune caratteristiche in comune e al di là del sistema di gioco che sicuramente impone probabilmente un paio di adattamenti rispetto alle uscite offensive e difensive che siano, i concetti di Giampaolo sono chiari a prescindere, al di là del sistema di gioco i suoi concetti sono chiari a prescindere e ci conosciamo bene, ci conosciamo da tanti anni. E Giampaolo ritiene che la classifica del Torino non rispecchi la vera potenzialità della squadra ed esorta i suoi a una prestazione di cuore contro un Udinese in crescita. La partita è ostica, la squadra è quadrata, l'avversario viene da un buon momento, ha fatto risultati importanti nelle ultime due trasferte, ci siamo preparati perché adesso noi siamo nella condizione in cui comunque non è che bisogna guardare molto in faccia chi è l'avversario di turno, tutte le partite presentano delle difficoltà, ci siamo preparati per affrontarla al meglio, bisogna avere la lucidità, la pazienza, saper come attaccarli e saper come difendere perché l'Udinese ha caratteristiche ben precise. Adesso noi dobbiamo mettere un punto, pensare alla partita di domani con l'obiettivo rivolto alla partita di domani, consapevoli di tutto quello che siamo, del momento che abbiamo vissuto e della nostra realtà, però bisogna andare a giocare la partita di domani al meglio delle nostre possibilità, freddi, sereni, mente fredda e cuore caldo e anche consapevoli dei nostri mezzi perché ritengo che questa squadra oggi occupa una posizione di classifica bugiarda, non vera, assolutamente non vera per i valori complessivi di questi ragazzi e siamo fiduciosi nel poterne venire fuori. Prima di salutarci come sempre un occhio alle prime pagine dei giornali che troveremo domani in edicola a partire dalla prima pagina di Libero. Libero intitola politici a cattoni felici di accumulare deficit, fanno debiti e li festeggiano. Il governo esulta perché otterrà 200 miliardi di prestiti, cioè nuovo disavanzo dall'Europa. C'è poco da gioire, bisognerà restituire i soldi così il prossimo esecutivo avrà tasche vuote. Conte sfida Renzi che fai mi cacci e il PD non sa chi ti fare. La prima pagina del giornale invece scrive fregatura in arrivo, pacco di Natale, già finiti i soldi, sono agli sgoccioli fondi destinati al cashback, manovra spunta un emendamento salva piloti. E ancora la prima pagina della verità che intitola Gualtieri aveva giurato, nessuno sarà lasciato indietro, senza lavoro un altro milione di italiani, la fotografia dell'Istat fa paura malgrado il blocco dei licenziamenti in un anno, bruciati centinaia di migliaia di posti, calato oppure in modo drammatico il livello delle retribuzioni e la situazione destinata a peggiorare. Intere categorie avvertono restrizioni e ristori insufficienti, ci condannano alla chiusura, protestano anche i medici sbalorditi per i pochi fondi alla sanità. Ed è tutto per questa sera, come sempre grazie per averci scelto, la buonanotte ce la dà Guido Gomirato con l'Accadde Oggi. L'11 dicembre 1983, dodicesima giornata del massimo campionato, l'Udinese Hospital Friuli, ci sono 50.000 persone, la Juventus è il big match della giornata, ne esce un incontro schioppetante, vivace, emozionante, alla fine esce il segno X, 2 a 2, un risultato che non fa una grinza, le due squadre si sono equivalse in tutto, parte bene la Juventus, è Paolo Rossi dopo sette minuti a dimostrare tutta la sua scaltrezza e a battere il portiere dell'Udinese che è Fabio Brini, ma la reazione dell'Udinese è immediata e pareggia dopo appena due minuti un terzino, Dino Galparoli, 1 a 1, tutto da rifare per la Juventus, tutto da rifare anche per l'Udinese, l'Udinese di Zico che vuole vincere quell'incontro perché non si ritiene inferiore tutt'altro alla formazione torinese. Ed è proprio la squadra bianconera friulana a segnare nel primo tempo la rete del 2 a 1, stavolta è un ex Juventino, Virdis, ad andare a Versaglio, primo tempo si chiude sul 2 a 1, risultato meritato per la formazione che è allenata da Enzo Ferrari. Nella ripresa la Juve cerca di scuotersi, cerca di mettere in difficoltà l'Udinese, ma i bianconeri di Enzo Ferrari sono pericolosi nelle ripartenze. Causio è in giornata di Vena, Zico non riesce a trovare gli spazi e i guizzi vincenti, ma è comunque uomo squadra. Virdis è sempre in agguato, ma nessuno fa i conti con Platini che al minuto 28 segna la rete del definitivo 2 a 2. Nell'Udinese manca Tesser, Tesser che la domenica precedente, sempre a Udine contro il Torino, ha subito un grave, gravissimo infortunio al ginocchio che lo costringerà a rimanere lontano dai campi di calcio per quasi un anno. Ferrari manda in campo Brini, Galparoli e Cattaneo, Gerolin e Digno e Pancheri che poi verrà sostituito nel corso della ripresa da De Agostini. Causio, Marchettimiano, Zico e Virdis con Mauro che subentra al sardo allo scadere quando mancano pochi secondi alla fine del match. Grazie. Grazie.